Musica Mi prego, andate dalle vostre padroni a chiedere qualcosa per un povero disgraziato che non mangia da due giorni. Riesco a malapena per trascinarmi. Ecco, mangiate questo pezzo di pane e bevete velocemente questa tazza di caffè caldo. Vado a cercare le mie sorelle. E' dolce, e quanto è buono, sento che l'amero. Venire qui travestito da un indicante è stata un'idea vincente. Se potessi amarmi per ciò che sono, e non per il mio titolo e la mia corona di piggio. Oh, cielo, che cosa ho visto? Ancora una volta uno dei tuoi amici è entrato qui, nella sala. Oh, cielo, che cosa ho visto? Ancora una volta uno dei tuoi amici è entrato qui, nella sala di piggio. Con sede la libertà, che mi ripionerà. Vito a meia, la mia vita è entrata. Altri ci verrà la disposa. Posso dare conferma al mio busto sovrano della partecipazione della famiglia Picto II? Sì, sì, senza dubbio, signor Ciambellano. Siamo onorati di accettare con enorme piacere lui signor Vito. Ma che dà il principe stasera? Che amore, figlia mia, che amore! Spiegatemi, papà! Aspettatemi, aspettatemi, non andate per essenza di me. Marie! Il nome mio? Chi mi chiama? Marie! È la voce della mia madrina. Appuntala dalla finestra! Appuntala dalla finestra! Oh mio Dio, che cosa vedo? Una bella carrozza durata. Piaggio, tu non ti accorgerai nulla, ma quando arriverai davanti al castello del principe sarai. Bellissima e splendida venta mia, avvicuna delle graziose scarpe di Dichio Donato, eh? Ve lo prometto, madrina. Ecco a voi l'orchestra con la sua diretrice. Maestro, ma vedo che anche lei ha una bacchetta magica. Si va. Bellissimo. Gli occello e il contrapazzo costituiranno invece le fondamenta per il nostro castello sotto. Grazie. 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 Grazie.